In fase avanzata il montaggio del ponte di tipo Bailey sul fiume Santerno presso Cognale nel comune di Firenzuola. Con una luce di 64 metri questo ponte garantirà la continuità del transito sulla SP610 Imolese, mentre il ponte esistente sarà sottoposto a importanti lavori di manutenzione programmati dalla città metropolitana di Firenze. Per il territorio di Firenzuola la strada provinciale Imolese è di primaria importanza in quanto collega il comune con Imola. Il transito di merci si indirizza prevalentemente verso la Romagna, così come per altre attività commerciali e di servizi. Non essendo presenti itinerari alternativi a breve distanza, è stata scelta obbligata quella di intervenire per la realizzazione di un ponte provvisorio di tipo Bailey. Una volta completato il montaggio, seguiranno le fasi di collaudo e di raccordo tra la sede viaria del ponte e la strada esistente. L'apertura al transito è prevista nel mese di settembre. L'apertura al transito è prevista nel mese di settembre.